Questa mattina in Commissione Vigilanza abbiamo portato all'attenzione il problema del consorzio di bonifica interno della Valle Peligna. Purtroppo è stato imbarazzante le dichiarazioni e le mancate risposte da parte del commissario regionale Adenino Petro Leonardo, probabilmente in quanto ignara dell'argomento di cui stavamo portando, all'attenzione di tutti quanti. Un problema serissimo. Il consorzio ha provveduto a indire un bando di gara che tra l'altro adesso è soggetto a una sospensiva del TAR per utilizzare l'acqua di irrigazione dei canali per la produzione di idroelettrico. Che cosa succede? Che essendo gli impianti tutti quanti a Valle, questo rischierebbe di togliere totalmente l'acqua ai consorziati. Un problema serio. Ho cercato di avere insieme al collega Dino Pepe delle risposte, ma queste risposte non sono avvenute in quanto il commissario non era assolutamente a conoscenza dell'argomento né del bando e di quello che stava avvenendo. Tra l'altro le concessioni non ci sono e in realtà il bando prevede una concessione di 30 anni proprio a questa società di project finanzi per la gestione dell'idroelettrico. Insomma, io e il consigliere Pepe non ci fermeremo qui. Sicuramente questo bando di gara e questo progetto sarà attenzionato altrove, ma soprattutto siamo dalla parte dei consorziati che non ne possono più di queste gestioni dei commissari che stanno facendo perdere all'Abruzzo milioni e milioni di euro. Pensate, l'Abruzzo è l'unica regione che non ha potuto partecipare ai bandi del PNRR, perdendo risorse utili e importanti proprio per cercare di risanare la situazione dei consorzi.